un momento la russia ha attaccato l'ucraina no la russia si sta difendendo da chi si sta difendendo beh è una lunga storia da spiegare gran parte del mondo si è schierato contro la russia a loro non piace il nostro paese e questo è un fatto assodato sì ma ancora non ho capito perché allora la russia ha attaccato l'ucraina per proteggere il donbass e non capisco cosa c'entra il donbass adesso il donbass è territorio ucraino che cosa ha a che fare la russia con il donbass no beh è un territorio russo di fatto perché dei russi vivono lì un momento un territorio russo di fatto cosa dall'unione sovietica non vedo nessun nesso fra l'unione sovietica e la federazione russa insomma perché delle persone ci vivono lì perché sono abituate a certi standard quali standard non lo so che ne so io persone che vivono come russi non so come spiegarlo quindi un momento la russia ha attaccato l'ucraina per proteggere quelle persone no no la russia non attacca la russia protegge no un momento ma se un esercito di una nazione ne invade un'altra e inizia a distruggere e sparare per definizione quello è un attacco è un'invasione no l'esercito russo ha invaso l'ucraina questa è un'invasione no come no perché perché la russia non protegge le persone nella regione di kursk allora spiegami la presenza delle forze armate ucraine nel territorio russo beh io a quello non ci credo non è vero non è vero niente salve cari amici e amiche e lo so alla fine che ne sa questa ragazza russa di geopolitica di storia insomma del resto sarebbe un po come chiedere a una qualsiasi influencer italiana che vende panettoni che cosa ne pensa del bosone di higgs più o meno la stessa cosa insomma penso che le idee di questa ragazza siano poche e confuse e non arrivino da tanto lontano penso che li abbia prese dalla televisione russa per esempio insomma mi sembra evidente come dice la stessa televisione russa che dice appunto è ovvio che tutto quello che sta succedendo è che mosca è il centro del mondo mosca è la migliore città della terra e la russia è la speranza di tutta l'umanità e lasciate che gli ucraini ci guardino e ci invidino gli ucraini hanno dichiarato che stanno già iniziando a congelarsi dal freddo questo fine settimana io non so se questo è vero no ma diciamo che se domani nevicasse a kiev e tutti si congelassero non ne sarei sorpreso affatto perché dio non può appazientare all'infinito e loro e noi naturalmente lo stiamo testando da troppo tempo già che poi è vero signori miei che kiev rischia di restare al freddo no chissà perché forse a causa dei missili russi che prendono di mira in modo sistematico le centrali elettriche che dite infatti questa è una vista notturna di kiev si sente l'audio certo certo la russia non invade la russia protegge si sentiranno così ben protetti i cittadini di kiev possiamo dirlo ma comunque la televisione russa ci riserva sempre delle chicche di umanità e tolleranza per il motivo per cui tutti invidiano la russia tutti vorrebbero essere come i moscoviti tutti vorrebbero vivere in una città come mosca sentite un po pensiamoci un attimo la guerra nell'operazione militare speciale sta andando proprio come è stato previsto il piano funziona se osservi almeno cosa accade sulla linea del fronte stiamo dicendo che tutto sta andando esattamente come previsto scusatemi ma le truppe naziste hanno invaso i territori della russia nella regione di kursk questo no non era previsto e l'altro dice solo grazie all'eroismo della nostra gente siamo riusciti a fermarli stavano cercando di raggiungere l'impianto nucleare di kursk ci sono riusciti ci stanno provando ma non ci sono riusciti e aspetta un attimo dice l'altro è diverso beh se noi adesso diciamo che tutto quanto sta andando secondo i piani e loro fossero riusciti a raggiungere la centrale nucleare allora cosa dovremmo dire oggi che il piano non ha funzionato no quindi dici di no guarda è una semplice domanda quello che dico io è che abbiamo una chiara e specifica dottrina su cosa fare in questi casi che comprende l'uso delle armi nucleari secondo questa dottrina dovremmo usare quelle armi avremmo dovuto usarle molto tempo fa e quindi cosa suggerisci di fare io suggerisco di fidarci del nostro leader supremo ah meravigliosa la televisione russa ma comunque dai io vi faccio una domanda almeno una proposta provate anche solo a immaginare cosa significa vivere in un paese così sapere che il vostro governo ha mandato al macello 640.000 dei vostri connazionali e poi sentire queste cose in televisione ma certo fidiamoci del nostro leader supremo dice le cui decisioni degli ultimi dieci anni e la retorica della propaganda si possono riassumere in questa immagine alla perfezione quest'altra meme fra l'altro è altrettanto perfetta quando qualcuno in italia fa certe affermazioni che si commentano da sole comunque dai signori passiamo alle notizie più serie ed importanti di oggi perché l'intro divertente è finito da deep state map non ci sono aggiornamenti da due giorni se non alcuni avanzamenti indicativi nelle posizioni russe brutte notizie quindi che parlano dell'area di vule dar ci mostra che la situazione si sta deteriorando in fretta le forze russe stanno lentamente chiudendo la cittadina accedendo così ad una importante linea logistica visto che c'è il fiume e la strada vicino tutto questo ovviamente al costo di un enorme prezzo di vite umane e di mezzi queste iconcine rosse che vi mostro sono ognuna collegata ad un video che testimonia la distruzione di mezzi pieni di uomini e soldati russi un video fra l'altro che sta circolando e che non vi posso mostrare testimonia come i russi abbiano preso l'abitudine di montare grossi calibri e munizioni su dei blindati leggeri non avendo più carri armati ovviamente quei mezzi da trasporto truppe i classici bmp questi qui dell'era sovietica per intenderci ora se già il mezzo in sé è molto leggero non è neanche a prova di proiettile tanto per intenderci tanto che i soldati russi preferiscono cavalcarli sul tetto piuttosto che starci dentro immaginate cosa succede quando lo spazio interno viene riempito di munizioni di esplosivi ecco per chi è un po avvezzo alle immagini che arrivano dal fronte diciamo che i botti che hanno reso celebri i carri armati russi per il cosiddetto lancio in alto della torretta sono niente a confronto al botto che fa una di queste scatolette quando viene riempita di munizioni di artiglieria e di esplosivi la perdita di vule dar che è un villaggio alla fine è grave bisogna dirlo ma proprio per queste perdite da parte russa bisogna comunque vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto insomma il costo che i russi stanno pagando per ottenerla bisogna sempre ricordare che la perdita di vule dar se mai dovesse cadere non è la fine del mondo per gli ucraini cioè che non si tratta di tenere a tutti i costi il terreno ma di infliggere il maggior numero di perdite alla russia e di preservare così la vita dei soldati ucraini il più possibile quindi come vediamo in questa immagine la trentunesima e la settantaduesima brigata ucraina stanno retrocedendo supportati dalle retrovie da una azione rabbiosa dell'artiglieria e del lavoro degli operatori dronici possiamo vedere le azioni dell'artiglieria ucraina su tutta la linea del fronte anche verso nord in quella che è ormai diventata celebre la spinta russa verso la città di pokrovsk da cui fra l'altro non arrivano nessuna nessuno non ci sono aggiornamenti non si segnalano particolari progressi da parte russa seguendo poi più a nord la stessa e ritirata strategica la vediamo anche nella cittadina di new york e anche verso toresk poco più a nord o qualche chilometro più a nord i successi sempre nell'infliggere perdite alle fosse russe anche qui non si contano per tutto il resto della linea del fronte verso nord non si segnalano grossi cambiamenti a parte qualche azione isolata dove c'è per esempio un gruppo di soldati russi che si arrendono oppure altri attacchi di precisione da parte dell'artiglieria ucraina gli altri progressi russi più significativi continuano invece nell'area di kolizny kivka dove le forze ucraine sono ormai in contatto se i russi riuscissero a raggiungere questa strada qui potrebbero mettere in difficoltà tutta l'aria chiudendo la linea logistica mentre passando più a nord la città di vojshask potrebbe darci qualche segnale positivo nelle prossime ore le prossime ore le notizie che devono essere confermate dal sito di euromaidan ma lo vediamo anche qui nella mappa di mayakosk 73 che ringrazio sempre infinitamente per i suoi aggiornamenti vediamo che il famoso centro di aggregazione nella città di vojshask è stato liberato questo è diventato famoso perché c'erano dei soldati russi arroccati all'interno che hanno resistito per mesi a quanto pare almeno se dobbiamo basarci su questa rappresentazione è stato liberato e sappiamo che le forze ucraine stanno spingendo i russi nella parte periferica a nord della città se diamo poi un'occhiata alla regione di kursk l'aviazione russa continua i suoi raid aerei non lasciatevi confondere dal numero di tutte queste icone perché in realtà sono tutte icone degli ultimi quattro giorni sono tre quattro quelle che risalgono a ieri mentre questa per esempio queste queste iconcine qui mostrano una colonna russa che sta cercando di spingere le posizioni ucraine in direzione est qui in tutta l'area ovest invece si sono intensificate le azioni ucraine in particolare con attacchi misteristici dronici e diciamo che a parte qualche report di ieri e di questi raid la situazione qui per quello che possiamo vedere fermano ci sono aggiornamenti almeno dovremo aspettare le prossime ore per vedere dei cambiamenti nella rappresentazione della mappa del fronte in questa pagina vediamo il rappresentato il numero delle perdite subite dai russi dal 24 febbraio 2022 quindi dall'inizio dell'invasione parliamo solo di mezzi pesanti per numeri e tipo e qui si parla di 10 t54 e t55 che sono dal punto del 1954 e 1955 sono stati presi dai musei probabilmente anzi sicuramente 170 t62 anche questi recuperati da qualche museo 80 t64 e poi 908 t80 che è un carro veloce degli anni 80 e che insieme ai 1900 scusate 1392 t72 rappresenta il grosso della componente pesante dei carri russi poi vabbè ci sono anche 138 t90 che poi alla fine non è molto diversa da t80 è solo la versione più aggiornata con poche differenze nella geometria della torretta e nella possibilità di montare dei missili oltre al cannone standard più segnalati anche 313 carri armati pesanti sconosciuti per un totale di 2931 mezzi distrutti e confermati ci sono i rottami in sostanza questa cifra spiega la frase che molti riportano per cui la russia ha perso più carri armati di quanti ne aveva all'inizio del conflitto che riportava una cifra stimata di circa 3000 carri potenzialmente operativi alcune fonti parlavano di 10.000 ma erano stime di pezzi abbandonati nei depositi per lo più realisticamente solo poche migliaia di questi potevano essere rimessi in servizio a questo bisogna aggiungere che l'attuale produzione di carri armati nuovi in russia quindi non recuperati dei depositi ma la produzione di carri armati nuovi è di una cifra compresa fra i 100 e i 200 all'anno questo non sono io a dirlo ma fonte del kiev post e dal sito per gli studi strategici internazionali e che in base a questi numeri e pezzi poi che sono riusciti a recuperare dei vecchi depositi si pensa che siano riusciti a mettere in campo un migliaio di carri armati solo nel 2023 quindi se parliamo solo di carri armati a questo aggiungiamo il rateo attuale di perdite questi numeri spiegano perché molti parlano della fine delle scorte e della possibilità di schierarli a partire dalla seconda metà del 2025 ma andiamo avanti in questo video vediamo uno dei più grossi esacotteri ucraini in circolazione trasportare un altro drone questo con funzioni mediche questo piccolo drone a quattro gambe diciamo così a quattro zampe si stanno vedendo sempre di più in azione e possono avere importanti ruoli di ricognizione e trasporto di forniture mediche e viveri il loro impiego fra l'altro era già stato segnalato nella città di voin chask mesi fa per stanare i soldati russi nelle case il vantaggio di queste unità è che possono restare nascosti essendo molto silenziosi molto più almeno dei droni volanti e in caso di perdita di segnale non precipitano e si rompono semplicemente si accucciano e restano nascosti andando avanti un'altra notizia che molti stanno riportando in queste ore riguarda la porta aerei russa la admiral kuzneskov una porta aerei vera e propria della flotta russa la notizia dice in sostanza che circa 1500 marinai assegnati alla nave sono stati prelevati per essere inseriti nel primo battaglione meccanizzato che vi devo dire non è una notizia così importante alla fine non fa nessuna differenza stiamo comunque parlando di marinai che non facevano nulla da anni perché questa nave è stato un fallimento già dall'inizio della sua carriera essendo afflitta da enormi problemi alla motorizzazione alle sue turbine che l'hanno costretta più e più volte a venire rimorchiata in porto e riparata insomma non è un'unità moderna e non è minimamente paragonabile ad una porta aerei americana per intenderci ma ma neanche a nessun'altra porta aerei occidentale anche le nostre piccole tascabili sono molto più moderne e diciamo operative rispetto a questa questa è nulla come capacità operativa perché è stata sempre ferma in porto fondamentalmente ha una capacità di circa una trentina fra su 33 e mig 29 più una manciata di elicotteri sono cifre molto lontane dalla capacità di qualsiasi porta aerei americana che può arrivarne a portarne un centinaio di aeroplani la cosa più interessante di questa nave russa comunque non era la sua capacità di trasportare questi vecchi aerei della guerra fredda quanto più la possibilità di essere utilizzata come un incrociatore lanciamissili ma come ho detto i gravi problemi di motorizzazione mai risolti la sua operatività relegata soprattutto a un ruolo di rappresentanza si è arenata del tutto e la nave poi ha passato più tempo ferma in cantiere che in mare quindi questi 1500 marinai alla fine non faranno nessuna differenza nello stato attuale delle cose al fronte per restare comunque sul tema aeronautico è notizia di ieri che un ricognitore marittimo il yushin 38 russo ha sconfinato nel mare del giappone ora l'early warning radar del giappone e tutto il suo impianto di difesa di scudo missilistico almeno è uno dei più avanzati al mondo data la difficilissima situazione che si è creata proprio nel mare del giappone a causa di ciccio kim della corea del nord e delle continue provocazioni della cina nei confronti di taiwan le forze di autodifesa del giappone non prendono per niente bene gli sconfinamenti così come ovvio dato che comunque sono supportati dagli stati uniti che monitorano monitorano continuamente il pacifico ora secondo l'articolo il ricognitore marittimo russo è stato intercettato dai caccia giapponesi viene riportato almeno dal primo ministro fumio kishida f15 ed f35 giapponesi sono stati chiamati ad intercettare il verivolo russo ora la procedura standard in questo tipo di operazioni di intercetto per gli aerei che sconfinano è molto semplice un aereo si mette in coda pronto a sparare e l'altro si affianca e prende contatto visivo col pilota dell'aereo intercettato e cerca di farsi capire a gesti se non funziona la radio ci sono delle chiamate radio sulle frequenze di guardia e di emergenza se il velivolo non risponde il pilota fa dei gesti o come si dice in gergo batte le ali non prendetelo la lettera non stiamo parlando di volatili battere le ali significa fare delle rollate veloci a quel punto la procedura prevede che l'aereo che intercetta fa un segno per farsi seguire nella direzione di uscita dallo spazio aereo violato quindi immaginate questo aereo che si affianca e poi vira leggermente e l'aereo intercettato deve seguirlo ok questo è quello che dovrebbe succedere nel caso in cui la radio non funzionasse e non si riuscisse a proprio a comunicare anche a gesti ora diciamo che da quello che possiamo dedurre i piloti russi non hanno eseguito la procedura standard a quel punto i piloti giapponesi pare abbiano lanciato delle flares per avvisare di non aver gradito e di averlo fatto davanti all'aereo intercettato il lancio di flare non è il lancio di un'arma non è un missile non era niente che poteva mettere diciamo in pericolo l'aereo intercettato però è un gesto diciamo abbastanza eclatante comunque questo caso non è l'unico ma l'ultimo di una serie di gravi violazioni del mare e dello spazio aereo giapponese atte appunto a provocare il giappone il ministero della difesa ha affermato che un totale di otto navi cinesi e russe hanno navigato congiuntamente nel mare del giappone da domenica a lunedì passando attraverso lo stretto di soia tra hokkaido e saka in i legami fra il giappone e mosca sono deteriorati dall'invasione russa dell'ucraina nel maggio 2022 febbraio scusate 2022 tokyo ha imposto sanzioni economiche a mosca allineandosi alle azioni intraprese da tutti gli altri paesi democratici e civilizzati sempre restando in materia di violazioni dello spazio aereo uno yak 130 bielorusso ha invaso lo spazio aereo ucraino ieri ora onestamente fra tutti gli spazi aerei che avrebbe potuto violare quell'ucraino in questo momento è in assoluto il meno sicuro quindi mio modesto parere credo che i due piloti bielorussi si siano salvati per una botta di di fortuna come si dice non è una notizia così rilevante voglio dire se vista in prospettiva ma ve l'ho mostrata giusto per mostrarvi la foto dello yak 130 e così anche per rispondere a qualcuno che nei giorni scorsi aveva sordito a finalmente un aereo tutto italiano per le frecce tricolori no lmb 346 è identico allo yak 130 condivide almeno il progetto della cellula quindi colgo l'occasione per ribadire che la leonardo è italiana sì ma è anche una multinazionale che attinge a diverse fonti progettuali nazioni collabora con nazioni in tutte le parti del mondo e che gli aeroplani in generale non sono mai fatti interamente da una singola nazione ma come dire la stessa cosa vale anche per le automobili le motociclette che possono anche essere assemblati in italia ma i componenti poi arrivano da tutte le parti del mondo poi alla fine non è importante no da dove arrivino la marca alla fine è importante l'uso che se ne fa come per esempio questo su coi 27 che è un aeroplano bellissimo esteticamente dalle ottime prestazioni che è l'orgoglio di un'azienda che rappresenta un periodo storico quasi di distensione alla fine che ha visto il crollo dell'unione sovietica insomma questo aereo è nato negli anni 80 poi si è affermato negli anni 90 ed è un aereo stupendo ed è interessante notare come questo aereo russo oggi combatte contro la russia nelle mani dei piloti ucraini usando armi occidentali e con questi colori quindi credo che sia davvero una bella immagine per un aereo che mi piace un sacco e con questo è tutto per oggi ora se volete sostenermi qui sotto trovate tutti i pulsanti di youtube per farlo iscrivendovi se non l'avete ancora fatto lasciando un mi piace volendo potete fare una donazione insomma il vostro supporto è essenziale per permettermi di continuare a fare questo lavoro e come sempre un abbraccio alla prossima